Allora Piero, te che sei sempre a Rezzo, che vuol dire che ci sono infiltrazioni dell'Andrangheta al Podere Rota e a Castiglione Fibocchi sui rifiuti? Che vuol dire, che significa? Significa che, sai, la spazzatura puzza, no? Quindi, ora però c'è da valutare perché chi gestiva la spazzatura voleva vedere se puzzava più quelli che la gestiscono o la spazzatura e quindi questa ora stanno facendo Questi doppi sezzi, che alla fine si va in galera senza sapere manco quel che si è detto Allora, chiariamo, di chi è la colpa? Perché c'è l'Andrangheta? Allora, tu sai che ci sarebbe l'Andrangheta All'inizio di quest'anno, 2017, perché forse il 17 porta male, si dice, no? Hanno arrestato, diciamo, i vertici di questa Ato Della 6 Ato e 6 Ato e 6 Ato, che in acronimo E' Ato, ma che significa? Significa che è un consorzio, diciamo, dei sindaci, tanto per spiegare meglio Che dovrebbero pensare appunto Alla gestione dei rifiuti Che poi, diciamo, il braccio, quello che va a pulire sarebbe la 6 Ha capito? Quindi, qui non si sa più chi è peggio Se è 6 o se, non so, 6 o non 6 Io ancora c'ho da capire C'ho da capire No, prima di andare in galera No, prima di andare in galera Perché non ci vanno nemmeno quelli che si infiltrano, i mafiosi che sono E che è stato accertato Andrangheta e Calabrese Calabrese è parla asperata Sì, infatti, ha il potere ruota E ora sembra che anche a Castiglion-Fibocchi Praticamente queste aziende C'era una vecchia discarica dismessa Però guarda caso Guarda caso No, Castiglion-Fibocchi e Castiglion-Fiorentina Ah, Castiglion-Fibocchi Guarda caso Guarda caso Che questa discarica va coperta E guarda caso Non si sa perché La deve ricoprire Una famiglia di mafiosi Chi sono? Sono E qui ora c'è scritto Bisogna andare a cercarli Sono due famiglie E quindi ecco Basta leggere Che devono ricoprire Il giornale Sì, devono ricoprire Praticamente tutta una parentela Che tra l'altro da Reggio Calabria Si sono spostati ad Aosta Perché una sorella di quelli di Calabria Ha sposato Aosta Danfossangrippo Hai capito? Cioè, nel senso però Dico Ma è possibile che è sempre così? È possibile secondo te? O che ne so C'ho da capire Tutta sta facendo Non lo so Ma te la spazzatura La paghi? No, io la pago in due comuni La pago in due comuni La pago Ah, così approfitto A Rezio e a Monterchi Mi cancacherò in due posti contemporaneamente Allora io Ti batto Ti batto Perché la pago in tre Battone Perché? E la pago ad A Rezio A Subbiano E a Castiglion E sei un battone E sono un battone Perché no Battone E batti E batti Ascolta Se coglievi eri un coglione Ascolta Se batti sei un battone Basta Ascolta Se butta via la spazzatura Sar mangiare Si mangia? No, no Non mangiare no Non mangiare no